Una vipera lentamente insidiosa. Una tortorella sbandata attraversa il cielo turchino come una freccia in cerca di un ruscelletto argentino. Lì, nascosta tra le canne, striscia increspandosi, una vipera lentamente insidiosa. Povera tortorella. Io odio la vipera e amo la tortorella. Perché? Commento. Perché la vipera appartiene a una bassa anima gruppo del mondo animale, mentre la tortorella appartiene a un'anima gruppo molto più avanzata. Ma attenzione. Per la assoluto, tra la vipera e la tortorella, non c'è differenza. Perché entrambe appartengono ad anime gruppo che si avvicinano all'assoluto.